Ecco il cameriere, buonasera ragazzi, ecco a voi il menù, grazie gentilissimo, cosa ti prendi tu? A me prendo un bel piatto di verdure, bello abbondante, tu? Eh sì dai, vediamo se viene il cameriere, ah è arrivato, cameriere, è arrivato, avete deciso? Sì abbiamo deciso, due piatti di verdure abbondante per tutte e due, ecco a voi il menù, ok siamo qui, aspettiamo, ah è fu per il cameriere, grazie grazie mille, ne ma sono tutti disordinati questi piatti, cameriere? Eh sì ditemi mi avete chiamato? Sì sono tutto disordinato questi piatti, sì verrà giusto subito, posto così, sono giusto a te? Sì, prego, prego, è bene così signore? Grazie, grazie, io ho mangiato bene, sono pieno, non è meglio dai, possiamo andare? Eh sì, va bene, eh, raga aspettate un attimo, lo devo salutare, ne? Ehi, il cameriere! Alla prossima, ci vediamo prossima, ok, adesso è giusto stato, addio, mi arrivano i creepi belvi, vabbè, a posto, la bellezza compadre staccava bastano e la puttana è nata la cosa ne ha potevo portare vabbò ora vediamo che porta affortunato portale aca, portale aca, appoggile suba a sto tavolo ecco le bellezze o meno male, o ecco il cane o vero però andavo poco aca portamelo sul tavolo portamelo sul tavolo portamelo portamelo ora ragazzi ci siamo, possiamo partire e mangiare non sai che mi manca? e che manca? manca la salata troppo qui ma l'avevo io il problema è molto molto bene aspettate ma che sono sti nuovi? orro appelli ma basta di toccare ragazzi ci siamo, potremmo cominciare a mangiare altra cosa è che ci siamo, potremmo cominciare come è che avessero tutto il secondo 3 3 2 3 2 2 3 4 4 4 5 ok Ok, 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 ok Ok, ok Merditi Arg hands up Your stomach terior conflicts Your stomach Your stomach My stomach Sì